Il nostro viaggio in Molise oggi si ferma a Termoli nell'auditorium della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo in occasione della festa di Santimotio dove è stato organizzato un convegno dal titolo Il Santo della scrittura nel Duomo di Termoli nella tradizione dove verranno presentati i libri degli architetti Antonietta Ida Caruso e a Nicola di Pietrantonio. Rimanete con noi. Patrenzo Nonzitti, oggi questo appuntamento è un'occasione di Santimotio. Avete organizzato con due architetti che hanno scritto appunto dei testi inerenti al tema e lei li ospita nell'auditorium. Sì, certamente sono molto contento di questo perché è un'idea che è arrivata così all'improvviso perché dovevamo vivere questo appuntamento tanto tempo fa poi tanti inconvenienti o contraddittori che non ce l'hanno permesso. E l'idea che poi ci è venuta è quella di farla coincidere con questo giorno che è la memoria liturgica di Santimotio e Santito quindi quale giorno migliore nella quale noi a Termoli non siamo abituati a viverlo con processioni, bande o cerimonie particolari perché ne abbiamo un altro di appuntamento a maggio, quello del rinvenimento. Però questa circostanza ci permette a livello parrocchiale, accogliendo anche gli altri che abbiamo invitato, a vivere Santimotio nel calendario liturgico della Chiesa. Architetto Antonietta Itacaruso oggi qui in occasione di questo incontro per parlare, discutere e anche approfondire la figura di Santimotio a Termoli ha scritto a proposito un libro che è l'Urna, che è un racconto storico romanzato e illustrato e anche diretto ai ragazzi e ai più giovani, appunto l'illustrazione all'interno del testo. Sì, per la verità ho scritto anche un altro libro precedente su questo tema, nel 2015 quando c'è stato il settantesimo anniversario del ritrovamento delle spoglie e ho trattato il tema delle due lettere di Paolo a Timoteo in chiave artistica e letteraria e c'è stata questa mostra nella galleria civica. Invece questo libro è particolarmente rivolto ai ragazzi, come giustamente dicevi, ed è un libro più romanzato, anche se c'è la parte storica, ma la maggior parte del libro è occupato da un racconto. Un racconto che si muove tra storia e leggenda e fantasia, ma è una tradizione popolare e quindi va trasmessa. È importante trasmettere ai più giovani perché la figura di Santimotio è poco conosciuta, si conosce più San Passo in quanto è padrono, però molti non sanno che Santimotio in realtà è copadrono. In generale i ragazzi hanno perduto quell'aggancio con la storia e con le nostre radici, a prescindere adesso da San Basso, da Santimotio e da altri beni culturali. I ragazzi sono ragazzi che vivono nell'era globalizzata, nell'era di internet, e quindi si rischia di perdere l'aggancio con le proprie radici e questo è molto grave. Bisogna comunque ritrovare quella linfa, così come l'albero produce le foglie proprio attraverso le sue radici e così anche i giovani devono trovare le loro radici. Architetto Nicola di Pietrantonio, oggi lei è qui ospita insieme alla collega Ida Caruso per presentare il suo libro, La Basilica di Santimotio. Lei ha fatto uno studio in questo libro in cui rinviene appunto quali sono i collegamenti col Santimotio della Basilica che oggi ne conosciamo come Cattedrale Santa Maria della Purificazione. Allora, cosa succede? Che andando a ripercorrere un po' le fasi costruttive della Chiesa mi sono reso conto che l'edificazione, almeno dell'ultima parte, dell'ultima Chiesa che vediamo adesso, coincideva con i tempi in cui le reliquie di Santimotio sono arrivate a termine. E questo mi ha lasciato riflettere. Ho detto, ma possibile che un evento così importante non lascia una traccia sulla facciata della Chiesa? E quindi ho cominciato a fare uno studio iconografico più attento e ho visto che non solo i tempi coincidevano, ma c'erano delle immagini sulla facciata che richiamavano la vita del Santo. Quindi sul portale, addirittura sul portale c'è un apostolo. Chi può essere quell'apostolo se non Timotio? A fianco a San Basso. E poi ci sono altre scene riguardanti sempre la vita del Santo. Alcune faccette di San Paolo oppure di alcune donne che sono le donne che hanno formato la vita del Santo. Quindi la madre, Unice, la nonna. E quindi mettendo insieme tutte queste cose mi sono reso conto che la presenza di Santimotio era più evidente di quello che potesse sembrare. Del resto cosa è successo? Santimotio arriva qui nella prima decada del 200. Nel 39, quindi appena dopo 20 anni, 30 anni, lo nascondiamo. E poi se ne perde la memoria. Quindi questa lettura, giustamente, non era possibile farla se non dopo l'invenimento delle reliquie dal 45. Quindi dal 39 al 45 sono passate la bellezza di 700 anni e nessuno sapeva dell'esistenza di queste reliquie. Il suo studio è stato uno studio lungo. Qual è stato l'iter per poi poter risalire a questi elementi architettonici? Certo, io a parte che ho avuto la fortuna anche di lavorare in cattedrale come tecnico. Quindi ho avuto anche l'accesso dei luoghi che sono difficili da dare. E quindi piano piano, cominciando, lo studio è durato quasi 30 anni. Io la prima ipotesi su questa cosa l'ho tirata fuori nel 95 quando c'è stato il cinquantesimo rinvenimento. Ho scritto un opuscoletto all'epoca sulle tracce di Timotio. Quindi già da allora avevo... Però ecco, questa cosa stenta a prendere piedi. Cioè nel senso, ancora adesso la cattedrale è di San Basso e ti ripeto, è tutto il più Santa Maria della Purificazione. Anche perché alcuni elementi architettonici che possono richiamare a Santimotio poi nel tempo sono persi sia per motivi agenti atmosferici ma anche perché terremoti, insomma, sono andato via e andato perdendo. Quello che resta però è abbastanza significativo. Come vi ho detto, ci sono delle testine che riguardano San Paolo poi c'è il discorso su... Proprio c'è l'episodio delle lettere. Ci sono un capitello con tre personaggi. Tre è un numero strano per quanto riguarda anche... Cioè di solito sono quattro, sono tre figure e sono proprio Paolo che dà le lettere a Timotio e Tito. Quindi una cosa più esplicita di questa qui sarebbe difficile attribuire un altro significato a un capitello di quel tipo. Tra la facciata e la basilica ci sono elementi appunto che richiamano chiari a Santimotio. All'interno, ora forse non più, ma in passato ci potevano esserci. Sicuramente, sicuramente. Anche perché quello che ripeto vediamo oggi è una parte anche molto... Quindi sulla facciata, la facciata ha subito terremoti, ha subito rifacimenti, quindi veramente poco quello che resta. Io ho individuato addirittura un vero e proprio ciclo posizionato in una parte particolare della facciata. Quindi non era una cosa così secondaria o c'è stato uno studio all'origine molto specifico su questa cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nostro viaggio in Molise termina qui. Vi ricordiamo che sarà possibile rivedere questa puntata sui canali del Digitale Terrestre per il Molise e per l'Abruzzo e sui nostri canali social.